Più che altro domani è un valore molto simbolico, cioè vedere un pezzo di ponte che viene giù e ricordatevi che sono 7 ore e mezza di discesa quindi non è che si vede proprio muoversi, non vorrei che uno pensasse a chissà che cosa, magari vedendosi il time lapse dopo uno potrà vedere anche la velocità con cui viene giù, però domani veramente un grosso pezzo di ponte viene giù che, scusate se lo dico così in termini, è inferiore alla quantità di materiale che è stato levato fino ad adesso, fino ad adesso abbiamo già levato circa 3.000 tonnellate e domani viene giù un pezzo che mi sembra che sia 800, quindi voglio dire c'è una bella differenza. Scusate, c'ho la presidenza del Consiglio. Tenete presente che è un pezzo di lavoro perché tanto lavoro è già stato fatto e tanto bisognerà farlo, quindi però è una cosa che si vede, ci sono tutte le televisioni domani che faranno il time lapse, addirittura Rina ha i droni sopra per vedere lo spettacolo dall'alto, quindi avrete da lavorare.